non è giusto non so un bel niente hai perso il controllo quel coso voleva ucciderci anche tu ti arrabbi quando combatti la rabbia può essere un'arma se la sai controllare e usare ma tu non ci riesci è da tanto che non sto male sto meglio ora va bene forza allora devo colpirti? voglio che ci provi vai! che fai? riprovaci perché fai così? sei lento di nuovo smettila fiacco ancora ancora smettila ancora la tua rabbia rischia di acciacarti il nostro cammino è difficile e tu Atreus sei tutt'altro che pronto cosa? zitto vieni fuori è inutile che ti rintanni lì dentro io so chi sei chi c'è là fuori? tu lo conosci? ma soprattutto io so che cosa sei presto vai lì sotto ora mi avevi proibito di andarci ma chi è? non lo so e di cosa parla? non lo so forza dimmi solo quello che voglio sapere evitiamo spargimenti di sangue ti credevo più alto ma è proprio te che cercavo sei lontano da casa o sbaglio? che cosa vuoi? oh tu la sai già la risposta a questa domanda qualsiasi cosa cerchi io non ho niente te ne devi andare e io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata che voi foste migliori di noi più intelligenti invece tu ti nascondi qui nella foresta come un gran codardo non ti conviene combattere oh non vedo l'ora di farlo fuori dalla mia casa tu dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca te l'avevo detto non importa tu non mi ascolti no 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 figura tocca a me che delusione incredibile fatti sotto inutile dimmi ciò che voglio e le tue sofferenze se finirà perché ci sono due le fuori dalla mia casa ho trovato un punto debole ehm ti nascondi lento e vecchio dovevi venire un minuto allora vuoi riprovare? tu parli troppo ti piace parlare? ti piace parlare? benissimo magari lo farà chi stai nascondendo in casa chi è? mi temi che possa trovare a copia ah inutile Sei una moglie mortale. Non la nascondi! Non la nascondi! Non la nascondi! Vai già via? I modi non mi hanno aiutato. Mi servivano solo delle risposte. Ma tu hai fatto l'eroe. Non mi importa che mi farai. Io mi rialzerò sempre. Quel corpo ormai vecchio cederà. Ma prima sappi che non posso sentire niente di tutto questo. Lo hai visto con i tuoi occhi. Non puoi ferirmi. Niente può farlo. Questa lotta è inutile. I tuoi sforzi sono inutili. Non doveva andare così. Non puoi vincere. Io non sento niente. Ma tu sì. Eppure, continui a provare. Io non sono mio fratello. Se tu mi avessi dato su che volevo, non sarebbe finita così. E invece... e invece... Io... perché... ... che non mi ha fatto? E invece... ... no 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 Oh, no, 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 no. Spero che tu, tutti quelli che ho affrontato, mi facessi finalmente sentire qualcosa. Ma non puoi. Chi era? Mi conosceva? Conosceva il mio passato? Come mi hanno trovato dopo tutto questo tempo? Cosa devo fare? Nostro figlio non è pronto per portare le ceneri sulla montagna. E nemmeno io. Non so come fare tutto questo senza di te. Ma non possiamo stare qui. Ragazzo. Sentivo dei rumori. Io credevo... Tu stai bene? Sì, sto bene. Vieni. Prendi le tue cose. Ce le andiamo. Ma sono pronto? Non sei pronto. Ma non abbiamo scelta ora. Mostrami che lo sei. Lo farò. La montagna sarà un viaggio bello lungo. Sì, ma è importante. Oh. Cos'è successo? Marta, sei a noi. Sì, ma è così bene.